L'allargamento della strada statale 85 Venafrana aumenterebbe la sicurezza dei tantissimi automobilisti che ogni giorno la percorrono, oltre a regolarizzare il traffico di un'arteria stradale strategica per i collegamenti tra Abruzzo, Molise e Campania. Lo ha detto Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del gruppo PPE al Parlamento Europeo, intervenendo sulla necessità di ampliare la strada statale 85 ed in particolare il tratto che congiunge i comuni di Vairano, Patenora e Sesto Campano. Stiamo parlando, spiega l'euro parlamentare azzurro, di un tratto stradale di grande importanza strategica, il principale punto di accesso per tutti coloro che venendo da sud vogliono raggiungere le stazioni sciistiche del Matese, dell'Abruzzo o le aree costiere adriatiche, una strada che è interessata da anni da fenomeni di dissesto idrogeologico, con la conseguenza che il tratto in questione è congestionato spesso dal traffico, divenendo difficilmente percorribile e soprattutto meno sicuro. È una situazione, aggiunge Patriciello, che va avanti da tanto, troppo tempo e che mortifica un'area geografica già ampiamente penalizzata dall'assenza di autostrade, aeroporti e linee ferroviarie ad alta velocità. Per questo Patriciello ha deciso di scrivere al neoministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola Di Micheli, per informarla della situazione e sollicitare così un suo tempestivo interessamento sulla vicenda nella speranza che si possa aprire al più presto un tavolo di confronto tra Ministero e Regioni interessate nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze. Quello che è importante in ultima istanza, conclude Patriciello, è che ci sia la volontà di migliorare la situazione e in sostanza la qualità della vita dei cittadini.